Benvenuti a questa nuova edizione. Ancora un incidente stradale mortale. Questa volta la vittima è Nicolas Marcellino, di 21 anni, deceduto sul colpo mentre gli altri tre ragazzi che erano a bordo della Ford Fiesta sono stati immediatamente soccorsi e trasportati dal personale del 118 presso l'ospedale pugliese Ciaccio. L'incidente è avvenuto nella notte di sabato 23 giugno nel quartiere Lido. Aveva nascosto la droga nel bagno e sotto il divano del soggiorno della sua abitazione ma è stato scoperto dai carabinieri. Per un 19enne di guardavalle così sono scattate le manette. Durante la perquisizione i militari della stazione locale nella notte tra giovedì e venerdì scorso hanno scoperto un mini market della droga a casa del giovane che abilmente aveva occultato quattro involucri in celofan contenenti marijuana e hashish. Un bilancino digitale di precisione e la pellicola usata per il confezionamento delle dosi. Il giovane arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Un incendio divampato nella notte ha distrutto un escavatore parcheggiato nel piazzale della ditta GTS in viale Magna Grecia a Catanzaro. Solo l'intervento immediato dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi del rogo. Stando alle prime ricostruzioni la cabina di guida del mezzo è stata completamente avvolta dalle fiamme. Si indaga per stabilire l'origine dell'incendio perché gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi compresa quella dolosa. È stato firmato un protocollo d'intesa tra il comune di Catanzaro e l'Associazione Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore. L'obiettivo è quello di offrire sostegno alle famiglie fragili con minori. L'accordo siglato a Palazzo dei Nobili consente di assistere con interventi mirati i bambini sotto diversi punti di vista. Gli operatori del Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore avranno il compito di promuovere il servizio di educazione domiciliare, ovvero quel filo diretto per l'infanzia atto a raccogliere segnalazioni di maltrattamento e violenza su minori. Inoltre, il patto regola anche la gestione di un osservatorio sulla condizione dell'infanzia, per colloqui di orientamento e sostegno morale e materiale, per un supporto scolastico e giuridico, per corsi di formazione e per la prosecuzione del progetto ospedale Allegro, indirizzato a favorire la relazione tra medici e piccoli degenti. I carabinieri di Santa Maria hanno denunciato un 59enne per reato di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. I militari avevano notato un veicolo sospetto parcheggiato all'interno del cortile di una proprietà privata e la sagoma di due uomini. Uno dei due, dopo aver tentato la fuga a piedi, al termine di un breve inseguimento è stato fermato dai carabinieri. L'uomo non ha saputo dare spiegazioni ai militari che durante la perquisizione del veicolo, rubato pochi giorni prima, hanno rinvenuto all'interno di un borsone diversi attrezzi da scasso. Beni per un valore di oltre un milione di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro. Il provvedimento della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro è stato emesso nei confronti di Francesco Aloi, di Guardavalle, ritenuto elemento di spicco di un clan d'Indrangheta nel Soveratese. Le indagini patrimoniali degli investigatori hanno consentito di scoprire il patrimonio di Aloi, eccessivo rispetto ai redditi dichiarati. Il provvedimento di sequestro, dunque, ha riguardato un'autovettura, diversi rapporti bancari e finanziari, un fabbricato sito a Guardavalle e varie quote societarie, pari a un valore complessivo stimato superiore ad un milione di euro. 12 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti pregiudicati ed il sequestro preventivo di un'impresa. Questo il risultato dell'operazione condotta dalla Polizia di Stato di Catanzaro, Lamezia e Vibo Valencia. Tutti sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere, con lo scopo di commettere più delitti di furto e ricettazione. Le indagini hanno preso le mosse all'indomani dell'omicidio nei confronti di Francesco Berlingeri, avvenuto alla Mezzia Terme nel gennaio del 2017. Decisiva per l'inchiesta, la funzione strategica di una autovettura, intestata ad un familiare della vittima. Ciò ha permesso di accertare molti episodi di furti e ricettazioni in concorso perpetrati da alcuni soggetti appartenenti alla comunità Roma. A seguito dei necessari riscontri durante le indagini sono stati numerosi i veicoli e il materiale provenienti dai furti che sono stati rinvenuti e riconsegnati ai legittimi proprietari. Dal prossimo 2 luglio partirà la campagna abbonamenti del Catanzaro Calcio. Lo slogan di quest'anno è Riprendiamoci la storia, bentornata US 1929, che richiama il ritorno alla denominazione Unione Sportiva Catanzaro 1929. I vecchi abbonati potranno soffruire dell'omaggio nella partita giallorossa. Gli sconti riguarderanno invece il family pack e i bambini dai 6 ai 12 anni. Non si potranno sottoscrivere abbonamenti per la tribuna laterale S, che è stata riservata alle scuole. Il costo degli abbonamenti parte da 135 euro per un posto in curva ovest, fino ad arrivare a 465 euro per la tribuna VIP. Una grande mostra personale dell'artista dei robot è quella che il marca di Catanzaro, sua città natale, dedica a Massimo Sirelli. Si intitola Teneri Bulloni ed è curata da Altrove, la rassegna che sarà possibile visitare fino al 30 agosto. Massimo Sirelli da alcuni anni è il nome di riferimento in Italia per l'arte applicata al concetto di creatività attraverso materiali di scarto che prendono forma. Ne vengono fuori incredibili robot, creature assemblate con oggetti provenienti dai mercati, dagli scaffali, dalle strade di tutto il mondo. A Gimigliano sorgerà il Museo della Pietra e il Parco Fluviale del Corace. Il primo che custodirà testimonianze della presenza sul territorio delle cave del marmo verde, nero e di quello rosa sarà ospitato nell'ex Palazzo Mirabelli, di proprietà del Presidente Emerito della Corte Costituzionale, recentemente ristrutturato grazie ad un contributo regionale. Nella stessa giornata sarà inaugurato anche il Parco Fluviale lungo il fiume Corace, nel tratto compreso tra la località Porto, sede della Basilica dedicata alla Vergine Patrona della provincia, e la parte sottostante l'abitato di Gimigliano. È stato presentato il libro Catanzaro, scrigno di fede e tradizioni, scritto da Valentina e Fortunato Santise e da Vincenzo Rotella. Un'opera che offre uno spaccato della devozione popolare dei catanzaresi, che parla di pietà popolare, di processioni, delle feste, delle quattro confraternite cittadine raffigurate proprio sulla copertina. Nel volume sono narrati anche attraverso molte immagini i legami e gli affetti che i catanzaresi hanno avuto nel tempo con qualche santo, con la Madonna e con Gesù Bambino. Per questa edizione è tutto. Grazie per l'attenzione. Appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.